buongiorno e benvenuti sironi auto sono davide sironi titolare della concessionaria oggi vi presento una delle auto più richieste dai nostri clienti ovvero fiat panda 4x4 cross come vedete una vettura con uno stile deciso e delle linee molto accattivanti ma allo stesso tempo mantiene ciò che serve per la guida in tutti i giorni ovvero lo spazio la funzionalità e il comfort tutto ciò fa di lei non una semplice autovettura ma un vero e proprio stile di vita andiamo a provarla come vedete al suo interno spicca il nuovo display da screen 7 pollici dove avete la possibilità di collegare il vostro telefono sia per le telefonate sia per la navigazione e anche per la musica senza dovervi distrare troppo dalla vostra guida l'infotainment è regolabile da questi comandi al volante che trovate proprio qui di fronte a voi su questo comodissimo volante in pelle in più la vettura dispone degli specchietti regolabili elettronicamente e del climatizzatore automatico anche gli interni di questa autovettura sono ben rifiniti con una parte in pelle ed una parte in tessuto la trazione 4x4 è gestibile da questa rotella che vedete qui proprio posizionata nel centro dell'autovettura permette di utilizzare la vettura sulla trazione anteriore nel primo caso risparmiando ovviamente molto sui consumi e invece di metterla nella modalità off road per sfruttare la trazione integrale inoltre come terza scelta abbiamo la possibilità di regolare la difficoltà delle nostre discese e ora la mettiamo a dura prova in fuoristrada vedete comunque che risponde molto bene con delle ottime sospensioni ne usciamo egregiamente eccoci qui in uno dei suoi habitat ideali come vedete uno dei punti di forza sono proprio le sue dimensioni 3 metri e 65 di lunghezza un metro 65 di larghezza nonostante questo mantiene un look davvero crossover come vedete ha dei bellissimi cerchi style da 15 fasce paracolpi laterali barre al tetto e come vedete sul frontale e sul posteriore i paraurti sono molto vistosi davanti hanno addirittura i fendi nebbio incastonati all'interno le luci diurne i ganci di traino e gli scudi colore grigio sul paraurti posteriore riprende lo scudo grigio come sull'anteriore e ha di serie anche i sensori di parcheggio per evitare qualsiasi tipo di ostacolo in questo caso abbiamo scelto il colore che secondo noi più gli si addice che è il colore giallo sole se volete l'abbiamo disponibile anche in altri colori quali bianco nero grigio e rosso eccoci rientrati ma la motorizzazione di questa auto ecco si presenta in un'unica motorizzazione che è il 900 twin air turbo fiat che permette di essere reattiva ad ogni situazione nuova panda cross spezza la monotonia di guida di tutti i giorni facendoti innamorare non solo per la sua ottima qualità prezzo ma anche per il suo look e personalità molto brillanti e ora non ci resta che aspettarvi in concessionaria qui a castello brianza in via don giuseppe alla mano 2 sironi auto ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.